C'è preoccupazione, ospedaletto e uganeo, per la comparsa di una strana sostanza in uno scolo d'acqua nella campagna della zona nord del comune e la conseguente moria di pesci. L'allarma è stato lanciato dagli abitanti della zona, che hanno sollevato il caso tramite i social, esprimendo tutta la loro apprensione per una situazione divenuta pesante, soprattutto dopo che è stata accertata la presenza di FAS nelle acque di parte del territorio della bassa padovana. Il sospetto inquinamento di ospedaletto è arrivato in regione sul caso. Il consigliere Ruzzante ha presentato oggi un'interrogazione, risposta immediata alla Giunta, affinché vengano attivati tutti gli uffici competenti, a partire dall'ARPAV, per scoprire le ragioni del fenomeno e individuare gli eventuali responsabili.